Il presidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallodidiano Ialburni, nonché sindaco di Sassano, sarà candidato con la lista Italia Viva Partito Centrista di Matteo Renzi, nella corposa coalizione di centro-sinistra che appoggerà la ricandidatura presidente della regione Campania di Vincenzo De Luca, alla prossima tornata elettorale regionale che si terrà il prossimo 20 e 21 settembre. Nella vita c'è un momento in cui la faccia bisogna mettercela e quindi noi siamo convinti, in questo momento devo dire che stiamo lavorando soprattutto per chiudere la lista di Italia Viva, poi ci sarà modo per presentare anche le singole candidature. In questo momento siamo veramente concentrati a fare un grande sforzo per costruire una lista che possa avere una rappresentanza in consiglio regionale, ma per fare che cosa? Per rappresentare la nostra gente, per rappresentare i nostri territori, per continuare anche un lavoro che abbiamo iniziato qui sul territorio, per dare voce a quei cittadini, a quelle famiglie che oggi vogliono essere rappresentati, ma soprattutto anche per portare in regione Campania le nostre idee legate alla sburocratizzazione, legate all'innovazione, legate alla tutela della salute, alla tutela dell'ambiente. Ecco, quelle iniziative che noi in questi anni abbiamo dimostrato che concretamente abbiamo realizzato delle cose concrete e non solo soltanto degli slogan. Ecco, noi presentando quello che abbiamo fatto, la nostra storia, le nostre origini, il nostro percorso, vogliamo oggi continuare questo percorso, questa storia, questo impegno, lo vogliamo continuare anche nel prossimo consiglio regionale, dove ci saranno delle sfide importanti, dove ci saranno delle scelte importanti da fare, dove ci sarà anche un momento difficile, perché chiaramente veniamo da un periodo complesso legato all'emergenza Covid, ma dove noi vogliamo oggi dare voce, dare voce a quel territorio rappresentato in particolare da questo territorio al sud di Salerno, che sempre di più deve essere valorizzato e sempre di più deve essere protagonista delle scelte che la politica deve fare non solo nella provincia di Salerno, ma in regioni Campania.